Hola, ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti a questo video con sorpresa, come vedete, giveaway con Glossy Box. Esatto, perché in questi ultimi giorni me ne hanno inviate un paio, una è questa che adesso vi farò vedere indicativamente e questa qua che è messa in paglio quindi per voi, per un affortunato fortunato vincitore vincitrice. Ma veniamo con ordine, poi vi spiego man mano tutto. Vediamo subito il pacchetto che arriverà appunto alla vincitrice vincitore, sigillata quindi, integra e non so appunto, non so cosa possa contenere, il bello comunque della sorpresa, come ho sempre sostenuto, il bello della sorpresa della Glossy Box, no? Ma veniamo quella che hanno inviato a me quindi indicativamente per darvi un'idea, anche se già la conoscete vi faccio vedere cosa può riservare appunto come sorpresa. Potrebbe essere questa, quindi questa qua, fucsia fluo come era quella per San Valentino, adesso qui i colori non rendono mai giustizia a questi colori fucsia. Vabbè, cartoncino, poi all'interno uno sconto da Zalando, quindi acquisti online, 10 euro di sconto diretto, c'è il codice sconto. E poi io ho ricevuto questa che era la one shot tipo con tutti i prodotti Criolan. Quindi, ad esempio, ci sono dentro 5 prodotti, uno è un pennellino occhi, poi un lip gloss, questo qua come vedete è bello rosa, poi un correttore in stick che è questo, un ombretto cremoso lunga tenuta, color rame, questo qua, e un ombretto mono, questo qui color terra di siena. Quindi, indicativamente, potrebbe essere una cosa del genere, però, rispetto, non lo so perché è chiusa. Passiamo alle semplici regole che sono semplicemente due cose che vi chiedo di fare. Allora, prementiamo che c'è già tutto scritto nella finestra, nel box qua, quindi aprite la finestra e troverete ben scritto tutto. Comunque, le cose da fare sono due. La prima, dovete cliccare nel link che trovate sotto, proprio per partecipare, clicca su questo link, verrete inviati a una pagina dove inserire, dove iscrivervi, tra virgolette, inserendo il vostro indirizzo email. Allora, prementiamo, magari vi viene il pensiero, il dubbio, la perplessità, ma poi cosa accade così. Allora, questa è semplicemente un'iscrizione totalmente gratuita, non vi verrà inviata nessuna Glossy Box, nessuno vi chiederà nessun soldo e questo qua, essendo un giveaway, anche questa che è in paglio, vi viene inviata, ovviamente, gratuitamente. Non vi verrà chiesto niente da nessuno. Semplicemente dovete iscrivervi per poi poter conteggiare e fare l'estrazione con random.org, quindi vi iscrivete lì e tutti avete un'unica possibilità per dare, appunto, a tutti la stessa unica possibilità e probabilità di vincita. La seconda cosa che vi chiedo è invece di cliccare sul mio link, il solito della mia pagina di Facebook, quindi se volete raggiungermi di là, appunto, cliccate, vi basta mettere il like, quindi il mi piace, e così ci possiamo trovare di là per scambiare, condividere foto, news e quant'altro, come al solito, è vero un altro bel punto di incontro. Basta, semplicemente, le regole sono queste, quindi non c'entrano i commenti sotto questo video, potete lasciarli, potete non lasciarli. Se volete scrivere qualcosa di qualsiasi genere, fatelo pure, liberamente, e io vi suggerisco, così, se volete dire la vostra riguardo, appunto, alla Glossy Box, visto che il tema potrebbe essere questo, magari scrivete, appunto, nei commenti liberamente, cosa ne pensate, pregi, difetti, cosa vorreste, le marche che vorreste, e cosa, anche, appunto, cosa vedete nelle altre che nella nostra non c'è, liberamente, secondo me, il tema può essere Glossy Box nei commenti, che però, ripeto, non c'entrano con l'estrazione, non venite sorteggiati tramite i commenti, quindi potete lasciarli, non lasciarli. Penso di aver detto tutto, penso di essere stato chiaro, comunque, ripeto, c'è tutto nel box, la tempistica, allora, quanto tempo dura il giveaway, sono dieci giorni, vi metterò, magari, qua, un fumetto, perché non so esattamente quando si caricherà il video, quindi, vi dico qui, esattamente, nel fumetto, quando verrà chiuso, verrà fatta l'estrazione, quindi, fra dieci giorni, lo vedrete apparire qui, e niente, questo mi sembra, mi sembra tutto, nell'augurarvi, buona fortuna, buona partecipazione, vi auguro anche una buona Pasqua, visto che ormai ci siamo, questo weekend è ormai alle porte, e anche se sembrerà, magari, così, retorico dirlo, io spero, davvero, che la passerete con i vostri familiari, con le persone care, perché almeno questo è quello che sento io, che sono abituato a fare, e che spero, veramente, che auguro a tutti voi, perché credo che sia una delle cose più belle, poi, visto che in questo periodo, per noi brutto, e invece adesso c'è un po' di miglioramento, sempre incrociando le dita, i nonni sono a casa, siano tutti più tranquilli, spero davvero che ci potremo ritrovare qui, a casa nostra, a fare un bel pranzo assieme di Pasqua, come è sempre stato per noi, nella mia famiglia, e quindi, lo auguro anche a tutti voi, e a tutti voi, e buon giveaway, ci vediamo al prossimo video, se vorrete, grazie a tutti, ciao! Ciao!